Ciao a tutti ragazzi, oggi benvenuti nel mio secondo video e sono con due ospiti speciali, oltre al mio fratello e le due mie migliori amiche Agatha e Vittoria Oggi giocheremo a questo gioco che è bello, molto bello e io ho un sacco di uova da schiudere, quindi le schiuderemo insieme Iniziamo da questo Ma che posizione strana sono? Guarda, è raro, bello dai Ma anche strana posizione Sto volando senza il coso, ragazzi mi sei buggato? Wow Mi sei buggato, ragazzi Mi sei buggato L'ho fatto neon Ok Ora Facciamo un watch Schiudiamo tutte le cose Agatha, vedi? Sono buggata Allora Ok Poi Qua Ragazzi, scusate Io sto comprando un botto di uova Ma anche io Ne ho un sacco Comunque Queste due mie migliori amiche Hanno due canali youtube Una Una persona a casa Una persona a caso Tutto attaccato Eppure Sara Trattino basso U Grande W Piccola E U Grande E poi l'altra Vittoria 56 57 Se non mi ricordo Se non mi ricordo male Mi pare di sì però Ah sì Mi sono buggato pure io Guarda Pure io Ci siamo buggati tutti Vabbè Comunque Comunque Se volete Venire In questi Cosi Volete Farmi un'amicizia Se volete venire Non serve privato Con me Volete farmi l'amicizia Asia BFF Robloxami Che è questo Cosa Ma non vi ho detto Nell'altro video Perché Se no non posso giocare con voi Perché Devo sempre Registrare con questo Telefono Perché Per sentire che Voi dovete fare così Ma vabbè Comunque BFF Robloxami Tutto attaccato Tutto piccolo Allora Posso dire una cosa? Sì Se volete Vi posso dare anche La mia amicizia Mi chiamo Agatha Trattino Basso Scoot Sto scendendo Se sentite Perché Ce l'è pure mia mamma Quindi Tranquilli Agatha Io sette volte Faccio live Quindi se volete fare Una live Insieme a me Sul server Prima di adormi Oppure Di altri Gli altri giochi Questa è la mia amicizia E questo è il mio link Agatha Si è successo Scoot Ok Ecco Se sentite Perché è mio fratello Ma Ancora È abbastanza Piccolino Quindi Ecco Ok Ragazzi Non so se vi piacciono Iscrivetevi nei commenti Se vi piacciono Questi tipi di video Lasciate like Se vi piacciono Questi tipi di video E iscrivetevi Ovviamente Se volete Vedere la mia faccia Vabbè Su questi video Volete vedere La mia morning routine E Dolete mettere 10.000 like Se arriviamo a 10.000 like Faccio la mia morning routine Se la farò prima È perché Non lo so Vabbè Comunque Intanto Facciamo cose di Roblox Che sono Abbastanza easy Poi Iscritti Doliamo Comunque Volevo Avvisare Di una cosa Per Asia Asia Eh Comunque Se vuoi Io forse Domani Sono aperta Quindi Se vuoi Possiamo fare Una live Insieme Ok Va bene Poi vi avviserò Sul canale Sempre Mamma Sì O scendere Quando la faremo Mio fratello È uscito dal gioco Se l'avete sentito Mi si è bagato tutto Ok Mi ha zero Perché Sono abbastanza Confuso È anche Io mi ha zero Perché Stiamo volando In pratica Però Ma io non ci vedo Più niente Praticamente No A me Anche a me Usciamo dal gioco No Aspetta Prendi un Better Fire E poi Servare il giro No Ma Ragazzi Scusate Eccoci qua Perfetto Ora Stiamo Di nuovo Qua Ora Deve ricaricare Perché Ragazzi Ragazzi Vedete Solo perché Sto registrando Con un tablet È abbastanza Pesante Quindi si Capovolge Ecco Ragazzi Va bene Aspettiamo Vediamo Ora Vediamo i pet E facciamo Degli scambi Con le mie amiche Ok Perfetto Ragazzi Ecco qua Facciamo Cosma Degli scambi Vado a prendere Delle uova Che voglio Quelle Azzurre Ok Prima facciamo Gli scambi Allora Ho un uovo No L'uovo No Tu mi dai uova Allora Allora Io ti posso dare Ehm Intanto questi due Perché Non li voglio Ehm Poi ti prendi Ehm Un pollo Così Ehm Io ti do Ehm Un pollo Una gara No Un felicottero Questo Questo Ok Ok Mi Ehm 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 Ok Ok ragazzi Ora Apirò Le uova Che ne ho molte Perché ne ho prese Troppe Vabbè Comunque Iniziamo da questa Uova Vediamo Bello Ok Poi Ehm Questo Aspetta Questo Watch Vediamo che cosa ho preso Epico Va bene Questo Penso ragazzi Che Ehm Dopo faremo un altro video Andate a vedere dopo questo video O nel mio canale Cioè questo Il prossimo video Oppure Nel canale Della mia Amica Che è una persona Che è una persona a caso Quindi Andate a vedere Perché faremo un altro video E diamo un gas Quindi Ragazzi Ehm Andate Ecco Va bene Va bene Poi Perfetto Epico Vediamo Ragazzi Scusate Veramente Mi scuso Con tutti voi Se Se vi faccio Cascare Praticamente Vediamo Vediamo Un altro Epico Ora Gioverà un epico Perché è sicuro Infatti Poi vediamo Questi Se sono fortunata Comune Ok Poi Comune E ora un altro comune Guardate ragazzi Vedete Sicuro Epico Epico Anzi Vediamo Comune Comune Infatti Ragazzi Realmente ragazzi Non so come scusarmi Proprio Ho perso le speranze Tipo Ok ragazzi Perfetto Poi Un altro Un altro Un altro ancora Perfetto Ora Sta prendendo pure Mio fratello Quindi Lasciate stare il casino Ora Ho appreso Tante uova Tante uova Tante uova Gialle Troppe uova Gialle Però Lasciate stare Sì Sì Si è Riaggiunto Comunque Mio fratello Se non L'avesse capito Perché Eccomi Eccomi Venuta di nuovo Agatha Perché Era andata Via Prima Non ve l'ho Detto Scusate No Di nuovo Sfocato Ragazzi Sto prendendo le uova Sto prendendo le uova Vediamo Ascia Ecco Ok Ragazzi Andiamo qua Ok Voglio fare Lo scambio Con Asia E aspetta Devo aprire Le uova Di nuovo Matteo Lo scambio Ok Perfetto Io ti do Questo E tu Perfetto Vediamo Trovo sempre Le stesse cose Sì Ok Perfetto Ora Devo vedere Una cosa Insieme a voi Devo vedere Una cosa Ok A me basta Cioè Agatha Ah no Io ho preso Quello Da 5% Eh Vabbè Ragazzi Comunque Vediamo se ho altre uova Non mi pare In realtà No No Non ne è più Ora Finiamo questo video Con un saluto Da me Da Matteo Da Agatha E Vittoria Nei miei due Migliori amiche Ciao 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 Ciao